e allora come ogni mercoledì insieme su Lady Radio con gli amici di Firenze Marathon andiamo a salutare Diego Petrini General Manager di Firenze Marathon che è qua in studio ciao Diego, buon pomeriggio, non siamo soli perché ci hai portato un ospite che vorrei tu introducessi e presentassi ai nostri ascoltatori bene sì oggi siamo con Francesca che è una nostra collaboratrice è praticamente con lei, ma ce lo spiegherà meglio lei, è con lei la quale gestisce un servizio importantissimo e molto amato da tutti i runners che partecipano alla maratona di Firenze oggi volevo iniziare un attimino a far capire cosa vuol dire organizzare una maratona non solo rompere tra virgolette le scatole, chiuso le virgolette la città chiudendo il traffico eccetera ma e quindi comunque ora scherzi a parte essendo impegnati diciamo con tutto quello riguardo alla mobilità il rapporto con gli uffici del comune eccetera ma tutti i vari servizi che poi diamo ai maratoneti sì i ristori, gli spugnaggi, le medaglie, la distribuzione delle medaglie, i teletermici alla fine della manifestazione eccetera ma anche dei servizi un pochino più carini e particolari come appunto la possibilità di ricevere delle foto durante il loro svolgimento della loro manifestazione e quindi Francesca è a capo credo di una squadra ampia perché insomma i numeri sono importanti ora è vero che quest'anno non si andranno a superare grandissime cifre come succede anche per le altre maratone nella ripresa post pandemia però sicuramente insomma ci dovrai raccontare di come poi si lavora ecco in squadra per offrire anche questo servizio come ricordava Diego Francesca esatto esatto il lavoro di fatto è molto semplice io oggi io sono di Modena ma sono venuta a vedermi il percorso via per via, strada per strada, in bicicletta e decidendo nella mia testa le postazioni dove poi metterò tutta la mia squadra e siccome è una maratona quindi sono 42 chilometri riusciremo anche a spostarci in più postazioni a testa quindi molti fotografi ne faranno una all'inizio della gara quindi attorno al massimo al decimo chilometro e poi si spostano sulla seconda parte della gara e così e mi sono fatta una gita in bicicletta a Firenze quindi ora tra poco ci racconti un po' delle impressioni avute anche dopo aver visionato il pubblico mi dici brevemente poi andiamo a salutare un ospite che è in collegamento con noi un ascoltatore che è chiamato allo 055 57 2637 come si decide si allestisce la squadra perché immagino che in tanti vorranno far parte di questi 14 fotografi la squadra si allestisce un po' con l'esperienza un po' anche per tentativi perché non tutti sono portati per la fotografia sportiva così come non tutti siamo portati magari per altro tipo di fotografia ci vuole tanta passione tanta pazienza tanta dedizione e un grandissimo amore per quello che facciamo nel mio caso aiuta molto anche essere per venire dal podismo quindi aver fatto sulle nostre gambe una maratona non basta essere fotografo ma bisogna come dicevi essere un fotografo che si tara bene sulle manifestazioni sportive in questo caso sul running e poi lo dicevi magari aver corso aver corso, sapere che cosa vuole dire quando vedi il cartello del 42 è la soddisfazione più grande della vita la liberazione della soddisfazione andiamo a salutare Gigi e ci possiamo cuffiare Francesca così lo sentiamo insieme che è un nostro ascoltatore e che è vero Gigi sta preparando sicuramente Valencia ma Firenze che fai? La salti quest'anno? faccio al trentesimo con, posso fare anche il nome della squadra con le panche siamo al trentesimo che faccio il volontario sono gli angeli custodi che praticamente io fu a Valencia e quindi mi ero iscritto e di fatti ti ho mandato i tempi il 5 dicembre, vero? Correrai io volevo fare uno spot a Firenze Marathon perché siete fantastici e la gara è questa, la mattina ti svegli profumo della dea di Firenze, sei sulla strada tante persone trentesimo chilometro si dice gamba decimo chilometro dal trentesimo al quaranta testa e gli ultimi due chilometri la cosa più bella di Firenze Marathon è l'ala della gente a destra e sinistra che ti porta lì al traguardo ma la cosa più bella che io mi ricordo è che di Firenze Marathon quando trovi quelli in carrozzina i sordomuti quelli praticamente non vedenti nella maratona e lì ti scoppia il cuore questa è la maratona, grazie ragazzi e grazie a te Gigi anche per il ringraziamento a tutta la squadra Firenze Marathon e a tutta l'organizzazione brividi, brividi dai assolutamente un'ora e cinquantatré quanto ho fatto? aspetta in distanza 23.59 Gigi mandava un po' di screenshot assolutamente bravo Gigi assolutamente un bravo atleta non è la prima che fa volontario insomma un grande appassionato ma sono queste le persone che fanno grande il nostro sport e il nostro mondo quindi insomma grazie veramente a tutti i volontari e a tutti gli appassionati che raccontano questo perché poi la maratona è proprio questo cioè alla fine è un evento che spesso e volentieri sottolinea una grande passione un grande momento e quindi insomma bello bello sentire queste parole emoziona anche noi organizzatori le emozioni invece di Francesca ci dicevi del del sopralluogo perché ti sei vista tutto il percorso proprio per individuare i punti migliori tutto il percorso al contrario al contrario al contrario duomo duomo cioè però al contrario esatto esatto perché io devo vedere da dove arrivano gli atleti quindi che cosa loro vedono è una quasi rilevante per me io devo vedere la prospettiva deve essere quella esatto che cosa ti ha ti ha colpito in questo sopralluogo fiorentino è stupenda tutta è stupenda tutta io forse per me mettere un fotografo ogni 500 metri ma non posso altrimenti il mio socio mi decurta il bagio dammi un'anticipazione su qualche scorcio che hai già insomma avuto modo ma io penso che uno che viene a correre qua sicuramente lo fa per vivere la storia di Firenze quindi assolutamente Ponte Vecchio Il Lungano Piazza della Signoria Piazza Santa Croce sono i posti dove uno vuole poi rivedere quando va a rivivere la sua la sua gara vedendo le fotografie e dice è ancora bello razzillo perché è il decimo chilometro però è il decimo chilometro parco delle cascine e qui torniamo in qualche modo Diego anche alle emozioni che i runners ci hanno raccontato negli ultimi due tre mercoledì insomma i contatti anche che ci avevi fornito di runners che o correvano per la prima volta a Firenze o appunto la stavano preparando e ci dicevano proprio questo insomma dell'emozione poi di correre una maratona in una città così dai come dice il nostro buon Fulvio Massini il nostro direttore tecnico la maratona gli va dato del lei indipendentemente da quanto siamo preparati anche personaggi atletici insomma è la regina dell'atletica poi alla fine ricordiamo che alle Olimpiadi è la gara che chiude le Olimpiadi quindi insomma è una gara sicuramente importante fare una maratona è una bella è una bella prova è una bella sfida è una bella avventura quindi spesso e volentieri vedere queste persone che per la prima volta fanno la maratona o magari sono anche persone normalissime veramente spesso e volentieri le persone che arrivano dopo le 4 ore le 4 ore e 30 ricordo che il timing il limite a Firenze sono 6 ore ma abbiamo sempre aspettato tutti insomma l'anno scorso l'ultimo arrivò se non erro a 6 ore 10 6 ore un quarto insomma arrivò questo personaggio se non erro era anche ultra 80enne era un personaggio veramente incredibile inglese se non erro insomma che tra l'altro insomma abbiamo la fortuna di conoscere poi nella scena ed è questo insomma sono queste queste storie questi racconti che emozionano io consiglio a tutti gli ascoltatori che magari non sono interessati alla corsa però quel giorno lì 28 novembre domenica 28 novembre scendete nelle strade venite sul nostro sito www.firenzemarato.it andate a vedere il percorso e scendete nelle strade e guardate queste persone che corrono perché secondo me poi alla fine il prossimo anno la vorrete fare anche voi alla fine prende voglia e quindi uno inizia la preparazione per l'anno successivo ci vuole un po' di tempo e ricordiamolo specialmente per chi non un chilometraggio così da da maratona e sulle foto come funziona cioè per potersi rivedere potersi cercare ecco come si fa per chi corre certamente c'è un sistema che smisterà in automatico le fotografie su un'app poi tutte le informazioni pratiche verranno date dal sito di maratona di Firenze e le fotografie verranno viste nel pieno rispetto della privacy da ogni atleta mettendo il codice che poi verrà riportato sul loro pettorale quindi è una cosa molto semplice anche molto veloce quindi noi contiamo già domenica sera di aver caricato quasi tutte le fotografie che verranno scattate e si parla di diverse decine di migliaia ci credo poi la tecnologia aiuta anche per smistare velocemente poi nella ricerca delle foto che riguarderanno insomma i singoli i singoli runners allora in chiusura darei proprio un po' di informazioni varie Diego Francesca insomma piacere visto che abbiamo ricordato il 28 novembre l'appuntamento con la Marathon il sito internet di riferimento e insomma negli scorsi mercoledì ci dicevi anche chi vi ha dato proprio mano in termini di volontari su tutti i fronti organizzativi per questa corsa ecco c'è ancora spazio per chi vuol dar mano per potersi avvicinare a voi dell'organizzazione chi vuole ovviamente il grosso è già stato fatto però chi vuole partecipare non correndo ma dando una mano basta che mandi una mail a infovolontari chiocciolafierenzemarathon.it e ovviamente insomma ragazzi scriveteci qualcosa sicuramente vi andremo a far fare assolutamente l'ultima cosa che vorrei dire è che comunque abbiamo chiuso come tutti gli anni la collaborazione con Rai e quindi daremo diciamo una differita al pomeriggio subito dopo l'evento nel primo pomeriggio su Rai Sport e quindi anche i podisti che hanno corso la maratona si vorranno un po' rivedere che vorranno risentire l'emozione oltre alle foto potranno rivedersi anche sulla Rai sia il pomeriggio stesso della domenica 28 ma anche di lunedì comunque nel palinsesso di Rai Sport la differita diciamo aiuterà in questo se non altro e invece per le iscrizioni visto che mercoledì scorso ci dicevi che c'erano step per poter ricevere anche degli sconti a che punto siamo e come si può fare per iscriversi ancora sì siamo già al limite l'ultima iscrizione del Last Point sarà il 19 di novembre data ultima e quindi per i ritardatari insomma chi vuole iscriversi lo può ancora fare solo e esclusivamente lo ripeto online quindi andate sul nostro sito e trovate tutte le indicazioni Firenze Marathon io ringrazio Diego Petrini General Manager di Firenze Marathon che poi insomma ritroverete anche nei mercoledì successivi e saranno quelli poi decisivi in avvicinamento della Maratona ci siamo quasi poi mi dirai chi ci riporterai qua in studio insomma se Massini se piuttosto che altri ospiti poi c'è l'Expo di cui ci avete raccontato in queste settimane e grazie a Francesca e in bocca al lupo per tutta la squadra dei fotografi in vista del 28 di novembre e ci fermiamo qua Firenze Marathon torna il prossimo mercoledì alle 17.15 qua su Lady Radio anche per lo sport e tutto tra pochissimo dopo la pubblicità torna e vai di lì con la cronaca con tutti gli altri argomenti ed ospiti nella prossima mezz'ora insieme rimanete qua ciao